Buonasera, ben ritrovati a tutti. Il Villamare Festival Film and Friends approda alla maggiorità ampliando film e amici, gli elementi che costituiscono la sua ossatura e facendo registrare numeri importanti e un cast stellare. 434 corti e una cinquantina di lunghi provenienti da oltre 25 paesi del mondo segnano il successo dell'evento organizzato dall'Associazione Villamare Film Festival a Golfo di Policastro con il contributo del comune di Vibonati e il supporto di 105 TV. 3 i giorni di proiezione non stop presso la saletta cinematografica all'hotel Le Piane a Villamare dal 23 al 25 agosto. 1 l'evento collaterale previsto la sera del 25 agosto presso il villaggio Legginestre a Villamare. In occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione del complesso residenziale, alle 21 sarà proiettato il pluripremiato film Un giorno all'improvviso alla presenza dell'attore Lorenzo Sarcinelli, giovane volto, già noto per l'interpretazione di Patrizio in Un posto al sole. 5 le serate invece in Piazza Maria Santissima di Portosalvo. Dal 26 al 30 agosto pioggia di stelle e cinema di qualità in riva al mare. Si parte con un grande protagonista del cinema italiano, un vero e proprio regalo per i 18 anni che il festival ha concesso a se stesso e al suo pubblico. L'attore Giancarlo Giannini sarà il perno della serata del 26 agosto con la sua lunga carriera, la sua profondità espressiva, la valenza culturale dei suoi interventi. In proiezione durante la serata il film Tulipani, amore, onore e una bicicletta in cui Giannini ha il ruolo di Catarella, alla presenza anche dell'attrice Lidia Vitale. Il 27 agosto arriverà sul lungomare Villa Marese l'attore Alex Belli, divenuto celebre per la sua interpretazione nella SOP di Canale 5 e Cento Vetrine e di recente visto al cinema nella commedia Dagli occhi dell'amore. Il 28 agosto si cambia atmosfera. A calcare il palcoscenico della Kermess Festivaliera ci sarà il protagonista indiscutibile della serie Gomorra, Salvatore Esposito, star internazionale definita tra i migliori cattivi del mondo per la sua interpretazione dello spietato boss Jenny Savastano. Al festival arriverà però in veste inedita per presentare il suo ultimo film, L'eroe, girato a Maratea. Con lui ci sarà il regista Cristiano Anania. Per la quarta serata in piazza del festival torna l'appuntamento con le colonne sonore. A trasportarci il 29 agosto nella dolce vita e nelle musiche che hanno fatto sognare attraverso il cinema grazie a Rota, Piccioni e Morricone ci sarà il musicista e compositore Vince Tempera. Il maestro, celebre per le tante sigle tv di cui è stato autore, per i talenti scoperti, per le sue partecipazioni a programmi televisivi e per la composizione di colonne sonore come quella di Sette note nero, ripresa poi da Quentin Tarantino, porterà al festival uno spettacolo di grande successo. Finale scoppiettante poi il 30 agosto con tre volti femminili, tre immagini diverse della donna nel cinema, tre donne forti e combattive. Giovanna Rei, volto mediterraneo dalla Piovra 9, approvaci ancora Prof 5 in tv, dall'ultimo capodanno di Marco Risi a quello che le ragazze non dicono di Vanzina al cinema. Nadia Rinaldi, caratterista di grande esperienza e brillante protagonista di numerose pellicole, oltre che noto personaggio televisivo, e Giuliana Desio, intensa interprete di ruoli complessi, eclettica nelle parti che l'hanno resa celebre al cinema e attrice teatrale di successo. Non mancheranno altri colpi di scena, ma l'edizione 2019 del Villamare Festival è già tutta da vivere.